Al teatro comunale di Tiene è andato in scena l'atto conclusivo del progetto Generazioni che quest'anno ha interessato gli studenti dell'Alto Vicentino. Ospite della serata per un incontro con genitori e docenti è stato lo psichiatra e sociologo Paolo Crepè. Sette idee imprenditoriali elaborate sotto la guida del Contamination Lab dell'Università di Trento da altrettanti gruppi di studenti. Si chiama Tempesta di Cervelli e ha visto protagonisti a Tiene gli allievi del liceo Corradini e i coetanei della locale sede dell'Ipsia Garbin di Schio. Un'iniziativa che rientrava nel più ampio progetto promosso da Confartigenato per favorire l'incontro tra le generazioni, tra chi si affaccia al mondo del lavoro con competenze oggi anche digitali e chi del lavoro ha invece un sapere costruito in gran parte attraverso anni di esperienza sul campo. La giuria, che ha verificato quanto le diverse proposte imprenditoriali rispondessero ai criteri fissati di originalità, sostenibilità economica e capacità di presentazione, ha assegnato il primo gradino del podio al progetto. Un'applicazione che consente di capire se il proprio autobus sia già passato o sia in arrivo. Nella medesima circostanza sono state presentate anche altre due iniziative che fanno sempre parte del progetto Generazioni, Open Innovation, che ha impegnato gli studenti dell'ITS meccatronico Veneto nella soluzione di reali problemi suggeriti da aziende partecipanti e figli d'arte che ha coinvolto imprenditori junior già operativi nell'azienda di famiglia. Ospite della serata, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepe, il quale ha intrattenuto i presenti con una serie di riflessioni sulla passione, sentimento che scaturisce dal desiderio forte di raggiungere un obiettivo, dalla cociutaggine con cui lo si persegue, in chi è già inserito nel mondo del lavoro e a maggior ragione nei giovani che si preparano ad entrarvi. Agli educatori che Crepe, per rendere meglio l'idea di ciò che li deve ispirare, definisce istruttori di volo, il compito di favorire le condizioni affinché i giovani riescano a individuare e poi coltivare le loro passioni e alla base di un buon insegnamento pone l'esempio. In generale la passione si trasmette con l'esempio, quindi questo per esempio è la grande importanza della terza generazione. Voi che siete sindacato degli artigiani sapete cosa voglio dire, cioè uno che usa le mani per lavorare e il nipote guarda, forse non farà quel mestiere però impara la passione che ci ha messo quel vecchio signore a fare le robe. Senza la passione, quella che motiva le persone e che si mette in luce attraverso le relazioni personali, l'umanità non avrebbe futuro, ci ha detto Crepe e spiega. Perché senza passione, senza innovazione, senza ardimento, senza coraggio, quelle cose là, l'umanità si ferma e siccome non abbiamo, non possiamo fermarsi per la semplice ragione che non c'è pane per tutti già oggi e se continuiamo con la scala demografica, non in Italia che siamo sotto zero, ma da altre parti del mondo dove sono crescite spaventose l'idea che tra 5-6 anni aumentiamo di altri 2 miliardi, poi bisognerà che qualcuno si inventi e come si fa a dare pane a tutti quanti, probabilmente ci vorrà dell'innovazione. Io non credo che sia mandare in giro dei robot o dei droni che buttano giù il pancarè in piazza, io credo che penseremo ad una cosa che è per qualcuno oggi un po' desueta, che è di nuovo l'uso delle nostre comunicazioni umane, delle nostre capacità proprio manuali anche di fare le cose, torneremo a fare le cose, a parlarci guardandoci negli occhi. Io ho una sensazione che tutto quello che oggi è molto in auge sia vicino al passaggio di una montagna, cioè tra un po' si scende, adesso siamo saliti e saliti con l'entusiasmo, con le novità, con le cose, adesso comincia l'altopiano che è un po' di noia e poi c'è una discesa in cui cominceremo a pensare basta con questi telefonini, basta con questi messaggini, troviamoci al bar a fare due chiacchiere.